La 51esima Coppa Interamnia è salva grazie alla costituzione di un comitato istituzionale e dopo che evidenti problemi economici rischiavano di far saltare l'edizione annuale. Un comitato che fa capo al sindaco della città di Teramo, all'assessore Alessandra Ferri e all'assessore Antonio Filipponi e ad altri numerosi enti che proprio in questi giorni stanno dando la loro disponibilità. In poco tempo è stato delineato il programma e gli aspetti principali di questa edizione che si svolgerà dall'8 al 14 luglio. La notizia di quest'anno è proprio questa, la Coppa è salva e si apre ad un futuro profondamente diverso. Di fatto si chiude un'epoca e se ne apre un'altra attraverso la costituzione di un comitato istituzionale, organizzatore pronto ad allargarsi ma che soprattutto risponde alle necessità, alle esigenze, alle richieste di tutta la comunità. Una comunità che si è messa in moto proprio per supportare la città capoluogo per raggiungere questo obiettivo. Tutto pronto o quasi, il tempo è stato poco ma si è lavorato insieme ad esperti e a volontari per pensare ad ogni dettaglio della tanto attesa Coppa Interamnia che ormai da 51 anni segna il via dell'estate teramana con partite ed eventi. Quest'anno un'edizione che non sarà perfetta ma che comunque ospiterà 100 squadre, 31 nazioni e 5 continenti per una vera e propria ripartenza che con l'istituzione del comitato segna l'anno zero della Coppa Interamnia. Io penso che sarà una manifestazione di transizione se vogliamo, si stanno creando le basi per un buon futuro, noi siamo contentissimi perché non siamo più soli, si è creata una grande famiglia di organizzatori, di gente che supporterà la Coppa, è quello che mancava, è quello che mancava e quindi questo è un segnale importante che sicuramente ci farà vedere un buon futuro della Coppa Interamnia considerato che ha tante di quelle potenzialità che vanno tutte valorizzate.